è strano come stare seduto qui in pochissimo tempo inizi a farmi stare meglio un po' come se riuscissi a vedere con chiarezza chi sono io, cosa importante e cosa desidero fare. Anche con un certo realismo devo dire. Poi appena mi reinfilo nella realtà però è difficile che questa sensazione rimanga chiara e limpida. Magari ogni tanto sì ci penso e riaggiusto il tiro ma tendenzialmente mi sfugge e torno a essere frustrato con la testa nell'acqua. Soprattutto faccio cose che se pensassi con la stessa chiarezza con la quale sto pensando adesso io non farei mai. a 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 Grazie a tutti.